Allora, mister Capuano, si va a parte per questa serie di due trasferte consecutive, la prima a Bassano con un Modena che ha ritrovato fiducia dopo la vittoria di domenica. Noi affrontiamo queste due trasferte con, ci ripeto, del processo di crescita costante che questa squadra sta facendo, convinti anche di avere una buona squadra a disposizione, stiamo anche recuperando tanti giovedori, qualcuno che è rimasto fuori per tanto tempo, quindi dopo tanto tempo rientra anche Diakite domani, anche se la sua presenza ritengo che non sia più di 20 minuti come consistenza proprio a livello organico, quindi però ritroviamo già un sudore per noi molto importante, fra qualche settimana riavremo anche, voglio dire, Marino, quindi siamo contenti, siamo convinti che il cammino, come ho detto nell'immediatezza del dopogara dell'Ancona, è ancora lungo, tortuoso, però stiamo lavorando tantissimo e speriamo anche di poter tornare a casa con un risultato positivo, perché le prestazioni fuori casa ci sono sempre state, è inutile dibattire, rimembrare sempre le stesse cose, il primo tempo di macerata, noi abbiamo fatto sempre gara ovunque e non abbiamo ottenuto quando meritavamo, su questo non c'è ombra di dubbio, affrontiamo una squadra forte, una squadra ferita dall'ultima prestazione, dove ritengo che il risultato non è veritiero, perché l'ho studiata molto la partita di Sant'Arcancelo, una squadra bene allenata, una squadra molto forte, però noi abbiamo bisogno di fare il risultato. Una squadra, tra l'altro, che secondo i numeri, dopo la Reggiana è quella che ha fatto più punti in casa, quindi c'è anche questo aspetto. No, noi non guardiamo queste cose, è una squadra forte, punto, poi fai i punti in casa, fuori casa, è una squadra che ha 40 punti e che probabilmente si aspettavano anche qualcosa in più, è una squadra che è partita per fare benissimo, come tra le altre cose che stiamo facendo. Noi siamo una squadra in ripresa, lo dicono anche i numeri, guardi che nel calcio l'unico comune denominatore sono i numeri, il resto è tutta riaffritta, quindi io potrei dire che da quando sono arrivato abbiamo una media playoff, siamo nelle prime 10, quindi stiamo camminando molto veloce, eppure fuori casa non stiamo facendo il risultato in quest'anno, a prescindere di un risultato. Noi dobbiamo fare punti perché dobbiamo... Grazie. 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 Grazie.